Amici dei Senza Giacca, dopo il rosso-nero Falghiera abbiamo il nero-azzurro Loris Menghi, personaggio conosciutissimo qui a Pesaro e di comprovata fede del Biscione, dei Bauscia milanese. Uno spronostico Loris sul derby a meno di 48 ore. Scaramantico però realistico, vinciamo 2-1, doppietta di cardi e può fare anche gol i guainchi se ne importa, incrociamo le dita ma dai il derby è il derby. Senti, dopo tre giorni andiamo al Barcellona, al Camp Nou, alla sola parola ti terrorizza? No, non mi terrorizza perché in questo momento il Barcellona non è al massimo della loro propria forma, quindi ce la possiamo fare, ce la giochiamo, sono molto fiducioso. Quindi passiamo il turno? Questo non lo so, però dai tra le prime due dovremmo esserci. Invece il campionato è andato? Purtroppo i gobbi sono più bravi, più forti e più organizzati, noi dal secondo al terzo o quarto posto, dai, bisogna essere onesti. Grazie Loris per la tua sportività. In bocca al lupo a tutti.